Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! È un gioco che è uscito il 15 di febbraio ed è un mix di diversi generi, come dicono gli sviluppatori, sembra una sorta di Faster Than Light con un pochino di Lost Haven, insomma ci sono dietro a questo gioco elementi di giochi come Uplink, Darwinia, Prison Architect, insomma anche perché graficamente lo rievoca un pochino. Il gioco non lo padroneggio minimamente, ve lo voglio mostrare perché sembra essere parecchio profondo, ci sono diversi tipi di inizi, c'è questo che è l'ideale per i nuovi giocatori, si parte con un piccolo vascello scientifico e tutto l'equipaggiamento necessario per un'avventura tra le stelle. Iniziamo e vediamo che cosa ha da offrirci, allora questa è la nave, la nostra nave arriveranno anche i nostri uomini ora, vedete che attaccano ed entrano. Ora abbiamo un tutorial, un tutorial che ci dice di piazzare degli oggetti, allora il menu lo andiamo a vedere tra poco, metto in pausa, non esiste una pausa ma è un tempo lentissimo. Allora, allora, adesso, aspettate che regolo un attimino il volume. Allora, un reattore per generare potenza, allora va bene, intanto qua in alto abbiamo i soldi, il numero di persone, le cabine che abbiamo, 5 su 32, l'ossigeno, deve entrare 1.000, l'acqua 1.000, abbiamo il cibo 200 e il fuel 4.000. Calcolate che anche solo il fuel funziona continuamente, quindi bisogna fare attenzione. Qua abbiamo una visuale tattica, abbiamo la visuale sulla nave, sulla stazione spaziale, su una trade ship che c'è, l'evacuation ship e poi la nostra science vessel, l'unica che possiamo vedere all'interno. Abbiamo anche queste scale, queste scale servono per vedere, lo vediamo nell'overlay, abbiamo la suddivisione dei lavori. Allora, riabbasso ancora un pochino il volume perché è veramente altissimo, anche volume basso in gioco. Abbiamo l'habitation deck, che praticamente questo può essere espanso ed è praticamente il numero di persone e di rifiuti prodotti, quindi è praticamente un altro piano rispetto a quello della stiva dei motori, insomma di tutti i vari sistemi. Abbiamo tutti gli schemi, abbiamo l'atmosfera, abbiamo come compare la nostra nave dall'esterno e così via. Intanto abbiamo anche qui gli ordini, quindi possiamo ordinare alle nostre persone di attivare le armi, di lavorare esternamente alla nave, di metterle tutte, di togliere le tute, ora se ordinassi di toglierle non sarebbe il massimo. Riparare la hull, raccogliere i materiali, raccogliere i ottami, insomma per utilizzare le cose. Allora, qua in basso ci sono le costruzioni. Noi abbiamo al momento tutti gli oggetti già pari costruiti per insegnarci a giocare. Possiamo installare, in questo caso facciamo installare il reactor, che è questo. Il reattore ci dice di, possiamo anche ruotarlo volendo, con l'uscita del fuel in un certo punto, io lo metto qua. Perché? Perché abbiamo il fuel loader, quindi il caricatore del fuel. In questo caso andiamo a prendere le pipes, quindi i tubi, gioco in inglese come vedete, e andiamo a connettere il nostro reattore. In questo caso i nostri uomini vanno, prendono le casse, più che altro vengono venduti sotto forma di casse gli oggetti, quindi non vengono costruiti da quello che ho visto. In questo caso il reattore vedete che sta generando energia usando il fuel. Ora, come prossimo passo dobbiamo mettere due motori, quindi installiamo engine 1 ed engine 2. Vedete qua abbiamo il primo motore, lo possiamo mettere come vogliamo, lo mettiamo più orientato verso il centro, potete metterlo così o così, io lo metterei così. Il primo motore è lì, il secondo motore lo mettiamo anch'esso qui. Possiamo metterlo più in giù o più in su, lo metto più in su anche questo, più spostato verso il centro della nave. E vedete che adesso prendono le cose e vanno a sistemarli. Ora, dobbiamo renderli funzionanti. Io qua ci ho messo un attimino a capire perché il tutorial è un po' vago. Dice testa i motori e va bene. Allora, vedete che qua ci dice che manca energia. Ora, se andiamo a costruire le pipes, qua, dicevo, ci ho messo un po' perché i cavi portano la corrente, le pipes e il carburante. Quindi iniziamo con le pipes. Il carburante lo facciamo uscire anche da qui. E lo facciamo arrivare a uno e all'altro. Ora, manca l'energia elettrica. L'energia elettrica è prodotta dal reattore. Il reattore ovviamente porta energia tramite i cavi. Quindi andiamo a portare anche qui uno e due. Vedete che si sta caricando. Ok, in questo caso i motori vengono accesi. Si sente proprio il rumore del motore. Infatti lo sentite. E abbiamo messo la nave in grado di muoversi. Ora, si può fare un test. Questo è il nostro vascello scientifico. Possiamo cliccare lì. E vedete, tornando alla schermata principale, vedete che la nave si sta muovendo. Perfetto. Ora, dobbiamo creare un supporto vitale per rendere l'ambiente interno della nave completamente abitabile. Quindi, prendiamo l'oxygen loader layer duct che praticamente diffonde l'ossigeno. Lo piazziamo anche esso qua in mezzo. Vedete che abbiamo oxygen. Lo possiamo piazzare così. Anzi, lo mettiamo di qua magari. Ok, oxygen. E l'oxygen loader, quindi praticamente il caricatore di ossigeno che piazziamo lì. Ora, con le pipes, facciamo comunicare il caricatore di ossigeno per fare questo giro strano con quello. E quindi, praticamente qui, i nostri membri dell'HRU prendono la bombola di ossigeno che possiedono e vanno a metterla qui. Ovviamente, sperate che metto in pausa, vedete che intanto proseguono lentissimi. I cavi, con i cavi andiamo a connettere. Vedete qua, mi mancava l'energia. Quindi, con l'energia, l'energia arriva da qui. Quindi, colleghiamo il cavo. E ora, posizioniamo la bombola e l'ossigeno, diciamo, viene diffuso nell'ambiente tramite questa ventola. Quindi, ormai è tutto carico, funziona tutto. Si sta, vedete qua, in alto a sinistra, si sta caricando l'ambiente. Quindi, con i vari tasti possiamo accelerare arrivando fino a un più 10 o uno 0,5 o un molto lento. Stiamo caricando l'ossigeno e tra poco saremo ok, abbiamo fatto. Ora abbiamo necessità di installare un motore a velocità luce per viaggiare e fare dei salti nell'iperspazio. Quindi, in questo caso, prendiamo l'ftldrive. Non gli dà fastidio perché ha bisogno di un certo spazio intorno. Quindi io lo piazzerei... È un po' decentrato, ma va bene. Stiamo piazzando anche questo. L'abbiamo piazzato. Ora va alimentato anch'esso. Quindi, cables. E lo alimentiamo. Perfetto. E viene caricato. Come vedete, adesso l'ambiente è stato completamente pressurizzato e c'è l'ossigeno. Quindi, loro intanto stanno portando la carica FTL all'interno. Quindi caricheremo il motore per il salto curvatura. Lo chiamerò così. E hanno tolto le tute. Quindi sono tutti in giro, senza tuta. Vedete che hanno abbandonato la tuta. Prima sembravano completamente senza maschera. Ma in realtà è una di quelle, diciamo, gli elmi moderni. Insomma, quelle delle serie TV su Marte, per intenderci. Ora dobbiamo jump, fare un salto, alla destinazione predefinita. Quindi, andiamo sul sector map. Abbiamo la destination. Ogni volta è diversa. La settiamo. In questo caso andiamo su FTL e prepariamoci al lancio. La nave ora verrà messa in allineamento. La cosa che mi dispiace, insomma, è che non ci sono quelle postazioni classiche in cui uno va ad attaccare. magari si sbloccano, però è messo tutto in modo più o meno automatico. Ora possiamo fare il salto e si salta. Salto interstellare. Abbiamo completato la prima missione. Vi consiglierei, come prima cosa, quando voi fate il tutorial, di non fare le cose in ordine inverso. Perché? O in ordine sparso. Perché a me non l'aveva dato, completato il tutorial. A questo punto io onestamente non saprei cosa fare. Vedete, qua abbiamo ratings in combat, industria umanitaria, neologistic, sono il nostro riconoscimento. Abbiamo delle missioni che possiamo prendere. Abbiamo una missione già accettata, che è quella di distruggere tutte le forze ostili. Abbiamo l'evacuation. Ci sono varie missioni che ci portano a salvare persone da altri sistemi o dai pianeti aiutarli ad andare. Adesso possiamo andare a vedere che cosa c'è. Analizza l'anomalia. Questa è una missione speciale. Possiamo andare... Questa è la nave pronta per il volo ed è a posto. Analyze... Oh, io posso accettarla. Ok, ci arriva una nave che ci dice che ci hanno mandato dei sensori. Ci hanno rilasciato qua dei hyperspace sensor e quindi installa i sensori sulla tua nave e assicurate che i sensori siano operativi e alimentati. Allora li andiamo a installare subito. hyperspace sensor li possiamo mettere... Ah, figo! Li mettiamo da una parte e dall'altra. Quindi li mettiamo qui. Uno. E il secondo lo mettiamo di qua. Vediamo se me lo fa mettere. Uno, due. Ok, li installiamo e li alimentiamo. Quindi abbiamo cables. Andiamo a... bisogna fare attenzione anche che siano tutti alimentati che l'energia basti insomma perché se andiamo qui su power grid vediamo tutto quello che viene consumato. Ok, abbiamo installato i sensori incoming a il siamo... abbiamo progettato un sensore custom che ti darà le informazioni che richiediamo. Questi sensori raccolgono dati dalle anomalie mentre sei in più vicino puoi saltare all'anomalia più veloce noi collezioneremo i dati. Possiamo mandare le fondi di ricerca appena raccogli 10 data dall'anomalia e ok. Va bene e questa è una missione abbiamo accettato una missione e vediamo se me la indica sul settore l'anomali io non ho idea di... qui ci sono stili vediamo qua ci sono non so bene cosa ma onestamente io l'anomalia non ho idea di dove sia questo è il settore di casa da qua si salta al prossimo settore quindi noi eravamo qui si va qua l'anomalia non so dove sia ma in ogni caso l'obiettivo finale di questa avventura è di quella di distruggere questi ostili per distruggere gli ostili noi possiamo andare a fare trade e vedere tutti gli oggetti che possiamo acquistare ci sono delle batterie del oxygen loader c'è delle altre cose trattamento di rifiuti perché andando appunto sopra nell'overlay dell'habitation deck abbiamo 130 di rifiuti che ci danno fastidio qua abbiamo in alto a destra la weapon platform l'altra nave abbiamo una nuova nave vendita a 100.000 che possiamo costruire la carrier frigate che viene venduta a 160 non riesco a vedere se è 160 o 1.060 1.060 questa è una carrier una paraxis un'altra nave la benemoth minchia questa qua costa 32 milioni guardate che nave va alimentata completamente ci sono un sacco di cose il tank di deuterio il reattore mamma mia è pazzesca sta nave habitation deck habitation abbiamo questo ok 131 cabine ok va bene torniamo smettiamo di fantasticare andando su trade invece possiamo andare ad acquistare delle difese quindi comprare della gatling gun dobbiamo 50.000 monete possiamo rail gun dei bullet noi compriamo una rail una gatling scusate con dei proiettili quindi compriamo sì perché la rail gun va con questo e la rail gun slugs ma la rail gun costa 91.000 quindi compriamo anche delle le munizioni confermo abbiamo acquistato tra l'altro stiamo consumando un botto di carburante e come potete vedere il carburante scende man mano passano i secondi in questo caso ci scarichano istantaneamente le cose metto in pausa dobbiamo creare uno storage per vediamo un attimo se abbiamo un modo di bullets mettiamo una zona qua per i proiettili in modo da spostare la roba ok il gioco non ci spiega nulla e questo è un peccato comunque adesso riescono a scaricare tutto quello che ci serve qua abbiamo la docking port va bene allora vediamo un attimo se possiamo installare subito questa la gatling gun ok la possiamo installare subito la mettiamo è qua sì perché dovrebbe avere i cannoni davanti ok gatling gun la installiamo lì e quindi la dobbiamo anche alimentare immagino sì con i cavi quindi tiriamo i cavi davanti questo gioco mi ricorda anche parecchio un gioco che avevo fatto anni fa dove bisognava progettare una nave quindi con tutti i cunicoli diciamo di manutenzione tutti i vari sistemi collegamenti elettrici di gas molto molto bello si chiamava forse starship corporation peccato fosse in inglese perché quello era veramente complesso da giocare comunque qual è il problema che sono un bambu oddio pipes ho installato delle pipes per sbaglio io ho anche sconnesso altri dispositivi quindi aspettate che col tasto destro ecco giusto per info si connette cables ricolleghiamo e poi connettiamo ho lasciato lì un tubo ma va bene lo colleghiamo direttamente così ed eliminiamo andando su pipes questo tubo che è rimasto qui ok ora il piano è pronto e qua vedete l'editor ecco un'altra cosa possiamo andare a costruire le varie cose qua andrà un po' approfondito non è molto friendly come gioco dico la verità qua abbiamo gli ostili vabbè io vi pongo subito la fine di questa avventura perché è giusto che sia così vediamo se posso comprare un altro gatling non ho soldi abbastanza industry vi faccio vedere cosa c'è in vendita il mining laser per minare perché possiamo minare smeltare la logistica sono dei tank dove mettere dentro le cose le risorse che si possono comprare ci manca il fuel compriamo il fuel ci manca l'oxygen ne compriamo ftl charge adesso qua stiamo spendendo un botto costano veramente tantissimo vabbè ve li compro così possiamo comprare della crew nuova tutti gli item che sono in vendita vabbè poi l'energia così confermo mi faccio portare anche questa roba intanto stiamo ci stiamo legando diciamo alle coordinate di destinazione scarichiamo ci hanno già scaricato perfetto faster prepare jump allineamento in corso e poi proveremo il combattimento anche se sarà veramente molto difficile perché non lo so non lo so fare weapon active armi attive scusate se io attivo questo vanno a mettersi tutti le tute e vi dico solo che quando io ho provato la prima volta questa cosa sono morto e quando ho riportato lo sguardo sulla nave è stata devastante perché era tutta distrutta quindi insomma adesso andiamo incontro al nostro destino morendo ma giusto per dare un primo sguardo al gioco un enemy ship ora metto in pausa vediamo overlay no dobbiamo vedere la visuale tattica dov'è sto nemico ci dobbiamo girare verso il nemico ok via vedete anche le armi hanno una portata le armi sono cinetiche dobbiamo pensare dove incrociare questi tizi adesso io accelero un po' i tempi direi che possiamo anche tentarla qui stop abbiamo i cannoni davanti quindi bisogna capire capire fire ritorniamo la visuale interna ci stanno sparando loro ma stoppati non è alimentato guardate come è stato distrutto è stato distrutto tutto e quindi non è più alimentato quindi manca proprio la corrente quindi incoming ok abbiamo ricevuto ok ci hanno pagato 10.000 perfetto il problema adesso è che è tutto distrutto quindi bisogna capire come riparare le cose ora ripare no perché ci fanno pezzi non riusciamo a muoverci adesso accelera un pochino il tempo ci stanno sparacchiando e siamo morti ancora prima di cominciare perché ovviamente i cables non funzionano è tutto distrutto perché no ma tecnicamente dovrebbe andare sì infatti infatti funziona allora fammi vedere weapon active sì sì no li stiamo sparando li stiamo sparando a questo punto allora cerchiamo di andargli in coda sì è bruttissima come modalità di movimento soprattutto con la telecamera ma probabilmente si può togliere infatti ok molto meglio così ok gli stiamo attaccando noi adesso ma non ne colpiamo mezzo sì sicuramente perdonatemi lo sbaglio ma sicuramente c'è un modo per farli guidare da soli che io non conosco che io ignoro ci siamo rotti di nuovo probabilmente no ok spara fatemi vedere all'interno della nave per vedere com'è perché adesso è brutta perché non me l'ha ancora più dritta devo rifare così rivediamo lo status interno ok stiamo sparando ancora e abbiamo tanti danni però penso anche loro guardate quanti ne abbiamo noi quanti ne hanno loro devo dargli il compito di stargli e gira così a sto punto ok sta lì dietro ok vabbè ah ok gli sta addosso per conto suo immagino no attacca 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 bravi bravi non sono messi proprio benissimo è brutto che stanno un po' ognuno dove vuole senza andare alle postazioni però penso sia fatto così dai spara di nuovo sono stupidi anche loro in effetti perché potrebbero starmi dietro spararmi ok vediamo i cannoni fermi non so il motivo ma è finita l'energia non so il perché ma è finita l'energia ripetere siamo siamo morti abbiamo finito l'energia devono devono riparare ma vabbè il gioco è sicuramente molto più profondo di quello che abbiamo visto ora calcolando anche che potremmo installarci un diciamo un miner un laser minerario e andare a raccattare materiali in giro per gli asteroidi e venderli fuel 0 ah ok abbiamo finito questo ok è finito il fuel ci siamo mossi male è parecchio punitivo devo dire perché c'era anche scritto tra l'altro qua a destra ci fanno saltare in aria adesso quindi va bene ossigeno ce n'è ancora ma va bene questo era the last starship è in early access verrà approfondito tanto verrà aggiornato tanto il prezzo non è basso ma credo rimarrà lo stesso fino alla fine dell'early access fino alla 1.0 da quanto visto quindi potete creare le vostre navi e upparle nel workshop di steam quindi questo è un altro valore aggiunto del titolo ovviamente qua attendo chi di voi lo ha giocato e ha suggerimenti da dare ovviamente non abbiamo visto niente ve l'ho presentato e sembra essere davvero un bel gioco con le giuste carte per fare bene per essere comunque un bel gioco con delle ottime basi ecco voglio dire però attendo anche chi di voi magari lo ha acquistato lo ha giocato molto più a lungo di me e sa raccontarcelo insomma dire cosa ha fatto insomma quali sono state le sue avventure come lo ha stupito questo gioco o se non gli è piaciuto insomma al prego di lasciare un commento qua sotto io con questo vi saluto vi ringrazio vi rimando a un prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie a tutti.